Trent'anni dalla chiusura, dopo due anni e mezzo di lavoro, oggi abbiamo presentato alla città un progetto di rigenerazione urbana molto importante. Riguarda non solo l'ex caserma, ma tutto il compendio tra via Scandiana e via Cistana del Follo. E appunto si tratta di 30.000 metri quadri abbandonati da 30 anni che verranno trasformati in una nuova piazza aperta alla città, con parchi e giardini, nuovi studentati e servizi per i cittadini, quindi ristoranti e piccole attività commerciali. Il Consiglio Comunale, l'11 di luglio approveremo questo accordo tra il soggetto privato e l'amministrazione comunale. Il processo urbanistico terminerà attorno a fine giugno del 2023, inizieranno da lì a breve i cantieri, quindi speriamo di poter inaugurare nuove strutture intorno all'anno 2026. Quindi dopo 30 anni finalmente riusciamo a dare una nuova utilizzo a questi spazi. Molto importante però anche la ricaduta di questo intervento sul territorio. Infatti è un progetto da 85 milioni di euro che chiaramente avrà una ricaduta positiva sull'indotto cittadino, quindi lavoreranno le imprese della città e anche i professionisti della città. E sarà anche modo per riportare vitalità in un quartiere che è spento ed è svuoto da oltre 30 anni e chiaramente ha subito un processo di desertificazione. Molto importante è il fatto che questo accordo di programma tra amministrazione comunale e soggetti investitori privati riguarderanno non solo quest'area ma anche altri due punti della città. Non specifico in Viale Volano, l'ex edilizia estense, 12 mila metri quadri abbandonati, oggetto anche di problemi ambientali da diversi anni, verranno interessati da un processo di trasformazione in un parcheggio scambiatore verde a servizio di tutte le città, di tutta la città e di tutti quei quartieri. Il terzo punto dell'intervento riguarda un'area di via Caldirollo dove verrà realizzato un parco lineare di circa 11 mila metri quadri. Quindi un nuovo punto in cui ci saranno a disposizione nuovi modi di spostarsi, piste ciclabili, attività commerciali, in una chiave inedita perché sarà una grande copertura verde in cui i cittadini potranno usufruire di un parco pubblico che avrà sotto di sé un insediamento commerciale praticamente non visibile e a impatto zero sull'ambiente. Infatti lo slogan di questo intervento è Ferris, quindi Ferrara è rigenerazione, innovazione e sostenibilità. Grazie a tutti.